Chiaramente noi oggi siamo molto felici e soddisfatti di poter essere qua a presentarvi una partnership con un marchio così importante e prestigioso quale l'Acqua Vita Snella. Per noi questa è un'ulteriore notizia positiva e un'iniezione di fiducia in questa stagione sportiva che comunque era già cominciata sul campo, direi, nel migliore dei modi. Però è inutile nascondere che a tutti noi mancava sempre qualcosa, avevamo un po' di amaro in bocca perché sentivamo che non eravamo completi. Quello che secondo me ci mancava sia noi come società ma anche proprio a Cantù era il trovare una grande azienda che credesse in noi, che ci desse fiducia e ci supportasse. Bene, noi siamo veramente felici oggi di poter annunciare che adesso abbiamo anche questo e quindi quello che ci manca da fare in questa stagione sportiva è quello di poterci dedicare a questo punto esclusivamente ai traguardi che ci siamo posti sul campo. Non posso che non ringraziare io, il dottor Pontecorvo e tutta la sua famiglia e tutto lo staff dirigenziale del gruppo Ferrarelle che è qua rappresentato da dottor Gabriele Monda oggi per la fiducia che ci hanno accordato e sono assolutamente certa che la nostra collaborazione sarà lunga, felice e fruttuosa per entrambe le parti. Oltretutto le acque e le bibite hanno sempre portato bene la pallachinestra a Cantù quindi diciamo che è una tradizione che va avanti. Volevo approfittare di questo momento per fare una lode che secondo me è doverosa all'immane lavoro che ha fatto e che fa sempre dietro le quinte Luca Ortman perché secondo me ha gestito questa trattativa così come tante altre trattative nel migliore dei modi e penso che il merito di questa partnership così come di quasi tutte le nostre partnership principali sia da attribuire esclusivamente a lui. Se voi guardate le nostre divise da gioco sia quelle di campionato che quelle di Eurocamp e se guardate il campo dove noi giochiamo sono tutti sponsor, chiaramente sono i nostri sponsor principali che sono stati portati e o barra seguiti da Luca. Questi sono risultati che magari non sono noti a tutti però la verità è questa e è giusto dirla. Vorrei chiudere questo mio intervento introduttivo parafrasando un po' quello che è stato il nostro slogan della campagna abbonamenti di quest'anno che mi è sempre particolarmente piaciuto perché avevo utilizzato questo bambino dalla pelle fatta di un pallone da basket che gridava che questa era la nostra pelle e bene, d'ora in poi grideremo tutti insieme che questa era la nostra acqua. Adesso lascio la parola a Gabriele Monda Grazie Ci introduce la partnership dalla loro parte Sì, buongiorno a tutti Vi ringrazio per l'accoglienza è stata una conferenza organizzata in pochissimo tempo infatti vi porto anche i saluti del nostro presidente Carlo Pontecorvo che purtroppo non è riuscito a essere qui oggi anche perché abbiamo fatto tutto abbastanza in fretta Vi ringrazio questa società perché Vitasnella che da tempo è legata al mondo dello sport, del fitness e dello star bene ha bisogno di partner di questo livello partner che siano affini anche come valori al nostro brand e crediamo che un partner come la pallacanestro Cantu sia l'ideale per la nostra acqua Vitasnella è un marchio in cui abbiamo creduto sin dal 2005 eravamo licenziatari del brand dal gruppo Danone e l'anno scorso siamo riusciti ad acquistarlo e quindi è da un anno in cui in cui crediamo molto in questo brand e stiamo spingendo tanto per noi praticamente equivale quasi a Ferrarelle quindi ha la stessa importanza è un'acqua lombarda che nasce qui quindi ha qui il suo territorio e la sua terra e crediamo che legarci a realtà come questa della pallacanestro Cantu siano fondamentali in modo particolare poi so che qui il basket è una vera fede mi piace molto, mi è piaciuto molto questo legame e sono state varie motivazioni non ultima il legame che avete con la vostra squadra che ci ha portato a scegliere questo tipo di sponsorizzazione ci auguriamo che saremo partner per molto tempo il contratto ha una durata di più anni ma ci auguriamo che resteremo per molto tempo insieme perché quando i matrimoni funzionano non vedo il motivo di interromperli ringrazio Luca perché in pochissimo tempo siamo riusciti a accordarci non è semplice trovare partner con cui si riesce a dialogare in maniera così corretta, chiara e con visione e obiettivi comuni e mi auguro tutto il meglio per noi e per pallacanestro Cantu e che questo sia l'inizio di un lungo cammino